Ora basta, stiamo rompendo, va bene? Mi sono stufato. Sono stufo! Ce l'hai al culo! Grazie. Becco, no! Ho spattato il tema! Io ho il cazzo, me lo fò, me lo ha fatto la mia ragazza. Hai una ragazza? Tutto in quel modo, che è? Scea! Con che cazzo mi fai ora? Con le mani? Con la fortuna. Con la barba. Visto, come se ti fai? Grazie. Vai! No! Ma è stufido! Gira in la cazza di testo! Il culo! Dio, pomarola! Vai! 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 Che cazzo è successo? Non lo so. Hai vinto! Hai vinto! Vieni con le campioni Tyson! Yeah! Cos'è una scimica? Però adesso siamo senza... No, smetti gli altri un po' di bacca! No, è il gatto da bollare! No, è il gatto da bollare! No, è il gatto da bollare! Beckham! Ce l'ho fatta, hai visto? I coni non ce l'ho fatta! Bene, hai visto che ce l'hai fatta, ho fatto! Ma è castrato! Femmina! Femmina! Dio? È un dio cagna! In calore! Prego, si accomodi! Vieni la sua frustazione! No! Ma cosa? Ma che cazzo, cosa dovevi? Dovevi guardare il culo del bellano? Sposta questi piedi! Madonna suola! Oh ma quanto spazio voglio! Andrò qua a fare il video in fondo alla camera! Approfinquati ma senza tenere le gambe incrociate! E come ne deve tenere? Non incrocio, tu sei Cristo! Non sembra normale! No fermo! Semplicemente via un cosigni? Oh no! Un autobus! E' il trenino di Capodanno vedi! P-pe! Maracaibo! Parola a spaccarlo! 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 Non si spacca! Vedi fa 6,5! E' un'altra passola! Il funzione del fascismo! Ah quella è romana! A pancia! Il bel nano rosso! guarda la fanta oi oi ah ne bene magello ho quello ondo va è c'era quello è Nedved è Aziz Sharamir ho che cazzo di scudo ho ancora bene gli altri glielo spaccavi tutti il tema non si è mai preso un cazzo di scudo in questo gioco ho un giro mi scappo da care io è tre ore che ti devo andare a care ma te non ci puoi andare ma se tu mi cai sul tappeto ma cazzo è l'uscio tanto è l'uscio anche di chi non è se che sei veramente bravo un chino davanti al fuoco c'è un'escoli c'è un'escoli devo dirti una cosa un po' di rispugge più morale veramente mi lasci non battere ha vinto un nano beh l'ho ammazzato oh il barbari il scudo dei barbari fai sei trombanti il terzo si vede infatti fa schifo fai sei trombanti il terzo il terzo il terzo è il prese il terzo è quello figlio il terzo è incomodo sei incomodo o no come la telepatia o la televisione ma che malattia è la telepatia sapessi ma 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 come procede il libro eh punto morto ovvero che sono morti tutti no allora è finito no dove è il gerarchi chi è il premistro Gesù o Golem eh vai vai ma Gandra è morta no ma è una strega no è una mazzone no c'è quello che abbiamo spiato eh eh sì però gliel'hanno rotta quindi adesso è senza nulla con le putte insomma sì qua c'è le tettone però dice il suo popolo castra castra sì castra per spretorium vabbè ma hai scritto proprio le putte come fanno a sapere che le gente le putte vabbè sei una donna sì non è che tutti hanno le putte per esempio ho più tipo di una mia amica meglio bello non so se è un'offesa per te o per la sua amica per entrambi oh questo è il mio punto preferito il suo libro ragazzi basta sono serviti un po' a tanti eh cioè sì in pratica il libro è questo gioco no più il signore dei anelli vabbè sicuramente non è il mio copyright ci sta chiamando il tetto addosso madonna ci sta chiamando il tetto addosso madonna ci sta chiamando il tetto addosso perché io è morto infatti nella nostra salvata l'ho smesso ma quelli che che era bussola oh ma come sti ticcioni ora spionna ammazzo uno fin dal fuo fatto io spondiamo ad ogni bene vai c'è il medaglione perché serve al prima fa a posto sì se non è serve a quello ho cercato su internet ma un sacco di gente chiede a cosa serve il ghost medaglione di al al mua lille lì al mua lille al jasira dove siamo ah qui c'è la superarma tamarroide se tu butti via l'armamento non ti guardo più no ma tanto non la posso usare l'armamento ah il coso di legno che merda ah bello mi è rimasta appena lì sembra un cazzo curo la sentici sopra pronta per essere presa ah bello bella me la questa io me la cazzo questa me la non salgo mi è dissimera questa me la questa me la culo io oh io cioè dove ne vedi quelli grossi perché sono c'hanno delle vere proprie dispense nel colon che crinieri ragazzi altra che silva buio ho questi due questi due buati staglio staglio c'è quest'alone di luce che è bella qui sotto adesso è come un alone di merda ti fa il culo ti fa il culo sei storto ti fa il culo nooo ora bravissimo sono morto bravissimo oh dio oh che cazzo io l'ha fatto ha avuto paura anche il culo il culo è te senti io le scale sono occupate più dell'ascensore mi è morto dalle scale non mi fa nulla in quelle colore ci sei stato orca madonna degli orchi se li ha iniziato se scordava di morire la usi eh se no voglio che coward che stop lecca una la la